Non ce la facciamo più, siamo indignati, dopo 20 anni della maxi compromissione al territorio qualcuno ci riprova, non possiamo più assistere ad inquinamenti mascherati, in questi giorni abbiamo solo visto o sentito i miasmi che provenivano da alcune zone, ma i miasmi non sono il tutto degli inquinanti, vi sono sostanze inquinanti comprese nell'aria che non si avvertono ma che fanno danni, i danni li avvertiremo dopo, quando nell'aria si spargeranno i veleni saremo tutti inconsapevolmente certi di esserci ammalati, ammalati di che? Se non abbiamo il coraggio da responsabilità di insieme ricambiare le cose, noi vogliamo fare e mettere da basso una richiesta semplice, vogliamo che il nostro ambiente di vita sia libero da veleni, sia essa nell'aria, sia essa nel terreno, dovunque ci sia un inquinante, noi vogliamo che chi ha titolo, ruolo e responsabilità lo disinquina, noi dobbiamo lasciare questo ambiente di vita possibilmente migliore di quanto lo abbiamo trovato, noi chiediamo a tutti di fare la nostra parte, di dire basta, se siamo scocciati di essere soggetti.